benvenuti o bentornati nel canale del bighe un'altra puntata della serie costa poco godo tanto e iniziamo ovviamente questa avventura portando un nuovo smartwatch in questo caso sto parlando dello hello watch ultra 3 che a mio avviso per i test che sto facendo e mi sto divertendo non avete idea quanto è lo smartwatch più performante che ho trovato nel rapporto qualità prezzo ve lo racconto in questo video e capiremo se costa poco e ho goduto tanto oppure no ma prima come sempre vi chiedo un like al mio video e se non siete iscritti iscrivetevi al canale qua parliamo di tecnologia parliamo di droni parliamo di tante cose interessanti vi porto prodotti tecnologici anche a basso costo spero di far cosa gradita dunque iscrivetevi al canale vi aspetto davvero siamo ormai oltre 50 mila un bel gruppetto e e dunque iniziamo a vedere questo smartwatch che ha delle caratteristiche davvero interessanti e le affronteremo insieme vi farò vedere davvero cosettine da leccarsi i baffi si inizia allora partiamo come sempre da quella che è la mia filosofia io questa roba di solito me la compro cioè cerco di comprarla sempre anche in questo caso ordine fatto su aliexpress smartwatch acquistato eccolo qui guardate smartwatch acquistato al prezzo di 35 euro vi dico già da adesso che questi prodotti purtroppo su aliexpress vengono messi magari io metterò il link qua sotto dopo un po che vengono acquistati i prodotti poi li finiscono per cui il prodotto non lo trovate più per cui cercherò di tenere aggiornato il link non è semplice magari ne metterò alcuni però purtroppo è così e dobbiamo cercare di adeguarsi un'altra cosa che ci tengo assolutamente a dire è questa questi tipi di smartwatch sono garantiti ip68 e hanno una garanzia ovviamente di tenuta all'acqua è vero trovo persone che mi dicono l'ultima la settimana scorsa io ci ho fatto il bagno al mare non è successo niente altri mi hanno detto io ho fatto il bagno al mare ci sono tanti commenti nei miei video dove si parla di questa cosa e lo smartwatch è morto eh sì beh ragazzi purtroppo il consiglio vi dai bighe fateci la doccia io ci ho fatto la doccia non ho avuto nessun problema ma io personalmente in uno smartwatch di questo tipo 35 euro eviterei di farci il bagno al mare andateci a correre fateci la doccia fate quello che desiderate di più nella nel bagnarlo nel buttarci acqua ma immergere l'acqua salata è un consiglio che vi do non lo fate però qualcuno l'ha fatto e come si dice in toscana ci ha pagato il figo qualcuno invece non l'ha fatto e il suo smartwatch funziona alla perfezione e dunque vi racconto questo smartwatch che come vi ho detto nell'introduzione era doveroso dirvi queste cose subito all'inizio ritengo uno dei prodotti di quelli che sto testando e sto provando più performanti in assoluto nella rapporto valita prezzo perché perché ci sono un sacco di funzioni davvero interessanti che vi farò capire quanto davvero la tecnologia avanza e anche con il basso costo si possono prendere dei prodotti davvero sensazionali e andando proprio a vedere il mio il mio smartwatch innanzitutto diciamo che lui si si configura usando l'app qfit è un'app molto interessante e funzionale e ha un sacco di funzioni davvero utili come li hanno questi tipi di smartwatch e infatti tenendolo al porzo lui riesce a monitorare la frequenza cardia il sonno e ovviamente se lo teniamo durante la notte ma non solo è molto interessante perché una cosa alla quale ero rimasto un po diciamo perplesso era la parte che riguarda nella pubblicità che fanno quando vendono questo smartwatch mi dicono che il prodotto prevede la saturazione del sangue la la gestione del battito cardiaco ma anche della pressione sanguigna purtroppo però andando a girare nelle impostazioni delle applicazioni del mio smartwatch non ho non sono riuscito a vedere niente di tutto questo ma andando però nelle impostazioni del mio della mia applicazione ho poi scoperto che di fatto lui cosa fa fa una una media delle delle impostazioni relative alla alla saturazione del sangue al battito cardiaco e calcola non mi dite come non sono un medio sarà sicuramente una cosa approssimativa va a calcolare praticamente la la parte che riguarda il la la pressione sanguigna e di conseguenza da dei valori che riflette appunto i dati che raccoglie il nostro smartwatch e vediamo subito questa cosa poi me lo tolgo dal polso guardate lui è un prodotto che offre due due cinturini uno di stoffa molto molto carino che a me piace tantissimo mentre c'è un altro cinturino che è il classico e lo vedremo qua dentro arancio che è molto molto classico e tradizionale e come gli altri che sto usando che ho portato qua nel canale e come dicevo se andiamo a vedere la nostra il nostro la nostra misurazione come possiamo vedere lui possiamo decidere ogni quanto andarci a far misurare il battito e ci misura appunto il nostro battito come puoi vedere in modo molto preciso perché io mi sono fatto delle diciamo ho fatto delle comparazioni con il mio apple watch classico e se andiamo a vedere a fare un test e proviamo andando a vedere ora che battiti sono molto alti perché sono molto molto vicini io sono appena rientrato dalla palestra per cui ho diciamo ancora sono un po affatiato perché di solito il battito è sugli sugli 80 mio 78 80 ovviamente dopo attività fisica lui rimane un po accelerato pian piano si stabilizza però ho notato decisamente un buon funzionamento un una buon paragone da parte di due smartwatch per cui guardate sono praticamente identici e questo è veramente molto interessante perché mi ha fatto veramente capire che che è finalmente uno smartwatch che riflette molto bene le quanto riguarda proprio i battiti e funziona davvero bene io sotto sforzo mentre corro è un altro problema che non è non sono molto precisi quelli che ho usato fino adesso io ero in palestra ho fatto l'esercizio mi era 108 lui 107 lui adesso che una paranta una valentina 50 minuti mi sono fermato il battito piano piano mi sta ritornando pian piano alla normalità e comunque sono intorno a 90 91 90 e questo è fondamentale per capire quanto funzioni veramente bene questa parte dello smartwatch perché sinceramente è fondamentale avere dei raffronti con uno smartwatch che costa ovviamente molto molto di più ma è la funzionalità davvero perfetta ma andiamo a vederci tutta una serie di funzione che ci offre questo questo smartwatch io intanto mi levo il mi levo il mio smartwatch così lo possiamo usare e vedere vedete ha questo piccolo blocco e si sfila si allarga non è comodissimo come il lacino ma questi lacini questo tipo di lacini sono così e andiamo a vedere bene come funziona come funziona le impostazioni del nostro smartwatch allora facciamo un po così allarghiamo e andiamo a vederci insieme le funzioni questo smartwatch ovviamente ha la possibilità di andare a modificare i quadranti che ruotando questa piccola ghiera come potete vedere si vanno a modificare e spostare volendo è possibile cliccare all'interno come potete vedere delle delle varie impostazioni e ci ci porta direttamente nelle varie aree che riguardano il nostro la nostra attività ruotando questa questa ghiera eccola qui è possibile andare a modificarla e non solo andando a cliccare praticamente sulla sul display è possibile anche cambiare i colori della stessa dello stesso tema e vado a ruotare e clicco in molti mi cambia la colorazione è possibile anche volendo andare a impostare un nostro tema e lo vedremo io mi sono messo io vedete con il monopattino posso andare a spostare l'orologio e quant'altro e impostare tutto quello riguarda proprio il quadrante stesso una cosa molto interessante è che scorrendo facendo uno swipe così è possibile vedere le notifiche le notifiche e purtroppo non è possibile rispondere a tutte le notifiche che ci arrivano anzi non è possibile rispondere alle notifiche che ci arrivano ma le possiamo leggere il lo smartwatch vibra e ci arrivano scegliendo ovviamente dal nostro dalla nostra applicazione sarà possibile andare nel vediamolo insieme direttamente da qui sarà possibile andare nelle impostazioni dello smartwatch e andare a scegliere notifiche e da qui possiamo decidere ovviamente di consentire le notifiche delle telefonate di we chat facebook whatsapp twitter altri significa anche tutta la parte riguarda le mail e quant'altro e dunque possiamo decidere quali notifiche appunto ci deve comunicare il nostro smartwatch tornando indietro e rimanendo sul tema degli dei 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 nostri dei nostri quadranti c'è questa impostazione ovvero eccola qui andiamo su da qui come puoi vedere ci sono i quadranti possiamo andare a scegliere un qualsiasi quadrante magari che ci piace qui abbiamo ovviamente tutti i nostri quadranti che sono questi magari a me questo non mi piace lo posso eliminare ho la possibilità di avere fino a sei quadranti posso andare a eliminare quelli che non mi interessano e andando poi su quadranti posso andare a aggiungerne di nuovi per esempio posso scegliermi questo i quadranti sono ovviamente gratuiti a differenza di molti quadrante di hk8 e non lo sono come vedi sta facendo di fatto il download e lo sta trasferendo sul mio smartwatch e questo mi consente di andare poi a scegliere x quadranti che potrò gestire poi dalla dalla piccola ghiera laterale e come potete vedere ecco che è arrivato il mio nuovo quadrante quadrante che in questo caso non mi modificerà niente ma è un quadrante molto molto bellino interessante e i quadranti che abbiamo eliminato non li troverò ovviamente più ma li troverò questi quadranti ma e lo possiamo fare ovviamente con tutti i nostri con tutti i nostri quadranti che abbiamo qua sopra io posso però andare anche a cambiare il mio posso andare a decidere di cambiare lo sfondo come puoi vedere e come posso fare se clicco su questa piccola icona posso andare a scegliere album fotografico potrei andare a scegliermi una foto per esempio che ho nel mio rullino fotografico non lo so questa che è una foto del grande Roberto Furlone lui è numero uno in questo questa è praticamente l'area che mi sceglie gli dico scegli e come puoi vedere se ho la possibilità di andare a scurire e aggiornare lo sfondo posso andare a spostare la mia potrei mettere dentro la luna e scegliere il colore ovviamente del mio numero però ovviamente è molto più leggibile così posso andare anche a spostare potrei mettere tutto dentro la luna se volessi usare uno sfondo esempio oscuro preferisco è più visibile mettere qua all'ora qua su il giorno e basterà semplicemente dire salva che come al solito farà un trasferimento sul mio smartwatch e avrò il mio dispositivo già pronto per questo nuovo sfondo che è davvero molto bello e particolare e totalmente personalizzato ecco sta finendo e a questo punto ci ritroveremo guardate che bello questo è il nostro sfondo è davvero molto 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 carino e questo mi permette di fare ovviamente tantissime cose e me lo ritroverò se ruoto ovviamente me lo ritroverò nei miei quadranti molto molto interessante rimanendo nella app ovviamente c'è un'impostazione un log nostro io come potete vedere c'è il mio account biganet la batteria altra cosa me la segnala hello watch 3 qua è al 75% e ne parleremo della batteria a breve perché è davvero molto interessante la parte batteria di questo oggetto vi faccio vedere una piccola cosa è possibile da qui usare anche la musica perché lui ha un hard disk interno che mi consente ovviamente oltre alle tante funzioni molto interessanti e opzioni che ha oltre come abbiamo detto è l'ottimo display AMOLED che è davvero micidiale da quanto è fluido e bello luminoso che ovviamente posso facendo uno swipe da sotto andare a modificare da qui eccolo qua posso andare a modificare la luminosità posso decidere se avviare la modifica l'attivazione della rotazione del porzo posso attivare o disattivare lo screen clock posso decidere quanto tenere attivo lo schermo dopo un po' farlo spendere spengere in automatico posso anche gestire la luminosità io per esempio ho impostato e deciso che la luminosità mi vada da mezzanotte alle 7 che abbassi la luminosità e sono tutte impostazioni ovviamente che mi servono per impostare al meglio la mia il mio smartwatch ovviamente da qua torno indietro da qui posso attivare il bluetooth anzi dobbiamo tenere attivato il bluetooth per far sì che siano ovviamente connessi da qua posso vedere lo stato della mia batteria proprio stile apple watch è proprio identico posso andare da qui a cliccare e attivare la funzionalità di risparmio energetico quando ho poca batteria posso ovviamente cambiare da qui la visualizzazione del nostro della non più a circolare ma direttamente forse molto più comodo cliccando torno indietro ecco qua posso praticamente andare poi a modificare posso andare da qui anche a gestire colori posso andare a vedere le foto che sono caricate all'interno del mio smartwatch questo molto bellino posso attivare o disattivare la parte silenzioso del mio smartwatch posso da qui andare all'impostazione dove ci sono la gestione delle notifiche non disturbare la vista delle app il pulsante di azione che sarebbe praticamente questo qua perché in questo momento il pulsante di azione è impostato su allenamento potrei in teoria impostarlo in una qualsiasi di queste opzioni io infatti se vado a cliccare su questo pulsante qua ecco che mi avvia tutta la sezione che riguarda l'attività fisica guardate quante quante ce ne sono ce ne sono una meriade veramente è veramente non completo di più e ovviamente se devo avviare il mio la mia attività per esempio decido di andare a fare il salto della corda attivo il salto della corda e guardate un po mettiamo decido di andare a correre lui avvia tutto parte e ovviamente misura il battito misura le calorie e quant'altro ma ci sono altre interessanti funzioni sempre dalle impostazioni posso anche volendo cliccare qua e andare ad aggiungere alcune cose che non ci sono per esempio potrei andare ad aggiungere la torcia potrei andare ad aggiungere anche il blocco del vedi potrei aggiungere anche il blocco io a questo punto posso cliccare su completo e mi troverò anche ovviamente la torcia che ovviamente è quella che è però può essere utile e mi trovo anche la parte che riguarda il blocco della dello smartwatch perfetto a questo punto voglio farvi vedere un'altra funzione interessante di questo di questo prodotto questo prodotto ha una funzione davvero interessantissima come dicevo di un hard disk interno l'hard disk interno è fondamentale se volete andare a correre non vi volete portare dietro il vostro telefono e con lui è possibile infatti andare nelle impostazioni se noi andiamo a cercare anzi ci possiamo arrivare anche scorrendo faccio vedere verso in questo lato qua eccolo qui noi abbiamo a questo punto il lettore musicale e come funziona? lettore musicale che andando a cliccare su questa icona ci permette di usare la musica del mio smartphone di usare la musica del mio smartwatch dell'orologio e potrei andare ovviamente e come è ovvio che sia a attivare gli auricolari bluetooth lui da qua ricercherà il dispositivo si connetterà e potrò ascoltare musica in locale con i miei auricolari senza aver bisogno di usare ovviamente il mio cellulare e portarmelo dietro cioè posso ascoltare la musica andando a correre usando solo lo smartwatch e questo è davvero interessante come posso inserire la musica è davvero semplice perché se noi torniamo indietro e clicchiamo qua sopra come puoi vedere in questo momento io ho una canzone qua sopra e lo possiamo tranquillamente possiamo tranquillamente gestire le canzoni che sono sul nostro smartwatch direttamente da qui musica locale possiamo andare a dirgli aggiungi musica e andiamo a dirgli aggiunge andiamo aggiungere una canzone ovviamente lui lo va a mettere qua sopra gli diamo ok e gli diamo qua ok e lui cosa fa si vedete per esempio mi è arrivata in questo momento una notifica lui si predispone e va a inviare questa canzone dal mio telefono verso il mio orologio e avrò tutta una serie di canzoni la mia playlist preferita di quando vado a correre senza avere bisogno di usare il mio il mio telefono e portarmi dietro il telefono e questo questa ritengo una funzione davvero interessantissima per questo smartwatch che a capo 8 non ha che gli altri che ho testato non hanno e è davvero utile l'ho testata funziona benissimo ho usato le le uffiette che vi metto qua in alto in descrizione che ho preso a 5 euro e sono le similar airpod pro ma pro di apple non so se avete visto il video andatevelo a vedere con 5 euro funzionava benissimo e di fatto con 40 euro ho tutto l'equipaggiamento giusto per andare a correre battito musica ascolto e tutto il resto davvero incredibile e andiamo avanti un'altra cosa che voglio farvi vedere che se io vado e faccio uno swipe da sinistra verso destra mi arriva anche qui tutta un'altra serie di impostazioni che sono la corsa il telefono i biglietti d'avviso delle impostazioni posso andare a rimettere una sveglia volendo la posso aggiungere ma posso anche andare ti faccio vedere se noi andiamo a scorrere e clicchiamo qua sopra eccolo qui sull'orologio dobbiamo avere ovviamente hello watch 3 connesso con le notifiche attive torniamo alla nostra app e da qui possiamo effettuare anche delle chiamate ovviamente possiamo fare delle chiamate e io faccio esempio una chiamata e vi faccio vedere qui sta suonando come potete vedere posso ovviamente decidere se passare all'orologio o al telefono ok sto chiamando casa e posso aumentare o diminuire e posso aumentare o diminuire la posso aumentare o diminuire la ovviamente la il volume e da qui posso rispondere o anche riattaccare e eccolo qui riattaccato e da qui posso gestire tutte le chiamate in modo semplice posso sia rispondere posso fare uno switch da dallo smartwatch al al telefono viceversa posso gestire il volume insomma è davvero molto funzionale funziona benissimo l'unico difetto che trovo è questo che non sono riuscito poi se qualcuno ci è riuscito se me lo dice vi fa piacere è questo ovvero quando si va a prendere a usare il i messaggi vocali su whatsapp mi me li prende da qua non sono riuscito a capire come spostare il messaggio come si fa con le chiamate al telefono dal dallo smartwatch questo è l'unico difetto vero che ho trovato in questo in questo smartwatch un'altra cosa che vi voglio far vedere per esempio nel quadrante questo anzi nei quadranti se andiamo a premere forte qua sopra vedete che posso decidere di mettere un quadrante fisso e bloccarlo in questo modo eccolo qui in questo modo io ruotando la ghiera eccola guardate ruotando la ghiera non non mi si sposterà più perché è noioso a me per me è noioso vedere i quadranti che si smuovono e mi cambiano continuamente io scelgo un quadrante me lo tengo fermo e anche se ruoto la ghiera come potete vedere rimane bloccato e che succede succede che se però voglio sbloccare basterà ripremere cliccare ancora su questo riliccare sul mio quadrante ed ecco che saranno risbloccati quello che voglio evidenziarti è la parte che riguarda la batteria la parte riguarda la batteria davvero molto interessante semplicemente perché e ci andiamo alla batteria perché io in questo momento ho il 74 per cento di batteria attiva e lui è in funzione ve lo giuro ha già fatto due notti e un giorno e mezzo intero siamo al 74 per cento telefonate messaggi e la luminosità ragazzi ve lo faccio vedere è davvero anzi è davvero a tutta a tutta luminosità per cui quello che vi voglio far capire che è uno smartwatch davvero molto interessante perché la batteria è interminabile 74 per cento e lo uso davvero è per qualunque cosa e e le funzioni sono molto 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 utili adesso vi voglio far vedere per finire il packaging praticamente qua dentro su in questo smartwatch arriva praticamente il carica batterie arriva il cinturino in cauciù come abbiamo detto di ricambio e arriva il manuale andiamo ad aprirlo ci sono molte 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 versioni di questi di questi smartwatch vedete c'è il cavo c'è un laccino di ricambio oltre a quello che ho nella mia nel mio montato ma non solo ho anche perché le serviette per i nuvidite per far che cosa perché mi mandano anche guardate un po' anche il vetro per proteggere ovviamente il mio orologio eccolo qua guardate c'è anche questo dunque ragazzi che vi devo dire un video come al solito del big è molto molto lungo un video che il big è vi ha portato ovviamente nel canale ci sarebbero a dire tante altre cose farò dei confronti prossimi confronti prossimamente di questo smartwatch con hk8 con altri che un altro che mi deve arrivare che è ancora più performante così dicono un po' più costoso ma ancora più performante e allora la domanda che ci facciamo sempre è quella video lunghissimo stavolta ma spero apprezzato da chi l'ha visto che dite costa poco ma godo tanto per me ragazzi costa poco perché 35 euro sono veramente poco per un prodotto come questo e io godo tanto perché a me mi è piaciuto tantissimo è per me il meglio smartwatch di quelli che ho provato fino adesso e ve ne porterò altri che non sono della serie simile a Apple ma vi porterò altre cosettine interessanti uno su tutti il Samsung cioè la copia del Samsung per cui per gli amanti di Android anche se questi funzionano ovviamente con Android anche vi porterò anche quello ve lo recensirò ve lo farò vedere lo sto già testando ve ne porterò un altro che ritengo economicissimo e iper funzionale anche quello ve lo porterò nel canale per cui ragazzi seguitemi mi raccomando like iscrizione vi aspetto ci si vede alla prossima un abbraccio dai big e ciao belli mi raccomando like iscrizione vi aspetto ci si vede alla prossima un abbraccio dai big e ciao